A domenica, rimaniamo in termini di viabilità, però ci spostiamo a domenica, continuano i lavori per la viabilità comunale, concluso l'intervento in via De Angeli, ora le attenzioni si sono rivolte a via Marconi, con un investimento di circa 100 mila euro. Per la sistemazione di via Manconi ci vorranno circa 100 mila euro, il manto stradale è irregolare, quindi Assessore? Sì, in realtà il problema non si tratta solo sul manto stradale, problemi su tutta la conformazione della strada, perché tutti i sottoservizi, legacy, fognature, tubazioni, gas, eccetera, sono in una situazione di criticità. L'intervento tecnicamente su via Manconi andrà concepito come è stato concepito l'intervento su via De Angeli e quindi va fatta tutta una valutazione molto attenta e molto seria su quelli che sono i costi e gli interventi radicali da mettere in campo. Per un intervento risolutivo bisognerà attendere comunque il piano triennale delle opere pubbliche? Sicuramente per andare a fare un intervento che sia risolutivo della questione bisognerà reperire delle risorse di circa 100 mila euro, 100-120 mila euro, proprio per sistemare tutto il tratto fognario, il tratto di tubazioni, eccetera, e poi ripristinare la pavimentazione come facciamo oggi in via De Angeli. Quindi su via Manzoni vedremo nel triennale, quello poi a fine anno che dovremo valutare, di inserirla con una serie di interventi che possono portare a una risoluzione in tempi relativamente brevi. Scusate qui, piccolo, qui però qua si parlava di via Manzoni e non Marconi. Veniamo alle ferrovie. Domani in tutto il Piemonte potrebbero verificarsi disagi per chi viaggia in treno. Lo comunicano le ferrovie dello Stato che precisano che dalle 9 alle 17 vi sarà una stensione dal lavoro del personale di Trenitalia di Piemonte-Valle d'Aosta, proclamata da alcune organizzazioni sindacali. Le ferrovie garantiscono tutti i treni a lunga percorrenza, ma invitano comunque i viaggiatori ad informarsi alle stazioni o ai call center di Trenitalia, numero 89-20-21, prima di mettersi in viaggio. Il Centro del Sole nella giornata di oggi ha presentato due nuovi servizi a disposizione dei cittadini dedicati al risparmio energetico. Vediamo. Anche il Centro del Sole sostiene la giornata internazionale del risparmio energetico che si svolgerà domani e lo fa lanciando due nuovi servizi ai cittadini. Come ha spiegato la responsabile Almelia Alberti, si tratta di due pool, cioè due gruppi di architetti e di ingegneri che saranno a disposizione, il primo per dare risposte sulla certificazione energetica degli edifici, che in molti casi è diventata obbligatoria, e il secondo per fornire consulenze sull'edilizia bioclimatica, cioè un modo di costruire gli edifici, mettendo al primo posto la non dissipazione del calore dell'immobile. A questi si sommano i servizi già da tempo attivati dal centro, come lo sportello del cittadino al quale ci si può rivolgere gratuitamente per avere chiarimenti e consigli sugli impianti di riscaldamento, sui problemi di installazione e sugli incentivi che vi sono a disposizione. Questi e tutti gli altri servizi del Centro del Sole, che alla sua sede al Tecnoparco di Verbania, sono riassunti in un nuovo volantino che comincia ad essere diffuso proprio in occasione della giornata del risparmio energetico. Un evento che ha avuto grande eco grazie alla trasmissione radiofonica Caterpillar, che ha avuto l'adesione di molti soggetti istituzionali e non, che hanno programmato diverse azioni da realizzare domani. Per Alberti si tratta spesso di iniziative simboliche che, più che al risparmio energetico, dovrebbero contribuire ad una diffusa riflessione da parte della società su questi temi. Secondo la responsabile del Centro del Sole, che è anche presidente del circolo verbano di Legambiente, il risparmio di energia è la migliore fonte di energia, ed è anche per questo che lo slogan «Mi illumino di meno» andrebbe trasformato in «Mi illumino meglio». E nel giorno di San Valentino c'è anche chi si è inventato la classifica delle città più romantiche, è il sito internetamoremio.org, che ha commissionato una ricerca basata sull'elaborazione dei dati dei 42.470 iscritti al sito. La ricerca indaga sul rapporto tra italiani e amore, stila una classifica delle province in base al romanticismo degli abitanti. Nel nostro caso pare che si possa fare di meglio, visto che il VCO si piazza al 92 posto su 104, con appena 31 punti su 100. Al vertice della classifica c'è Alessandria, con 92 centesimi seguita da Roma e Reggio Emilia, mentre in coda c'è curiosamente proprio la patria di San Valentino, Terni con solo 18 punti. Il benessere è come fonte di turismo e di ricerca scientifica, questo è il senso del premio organizzato a Stresa per la settimana prossima. Stresa e i suoi hotel con i loro centri benessere può diventare il fulcro di un'idea di turismo anche del benessere, giusto? Sì, è quello che noi ci auguriamo. Stresa ha già acquisito un ruolo importante nell'ambito della cultura, abbiamo premi culturali di un certo rilievo. Ci piacerebbe che anche dal punto di vista del benessere e dell'aspetto scientifico del benessere, Stresa potesse acquisire un ruolo importante in Italia e nel mondo. Noi puntiamo a far capire che il benessere non è soltanto una questione estetica, ma è una questione di vivere bene, di stile di vita. Stresa già di suo è una località splendida, ha un microclima incredibile e la nostra professionalità vuole arricchire questo modo di vivere. Noi siamo già, direi, conosciuti a livello nazionale e internazionale, però ci piacerebbe essere valutati anche dal punto di vista scientifico come SPA di eccellenza e con questo premio speriamo di trasmettere sempre di più questo messaggio. Ecco, un premio rivolto nella fattispecie a dei ricercatori che migliorano e implementano le teorie del benessere. Esatto, questo primo premio è stato creato con un bando indirizzato a tutti i centri di ricerca di eccellenza delle università internazionali sull'età di mezzo della donna, la prevenzione e la cura, proprio perché si voleva premiare il miglior studio in questo campo. Continuano i corsi del Lampana per formare nuove guardie ecozofile, vediamo nello specifico. in videoconferenza e in contemporanea con la sezione di Novara proseguono i corsi del Lampana per la formazione di guardie ecozofile. Cosa sono le materie che voi proponete? Allora, le materie principali sono quelle che sono le norme legislative vigenti in materia ambientale e animale. Ovviamente quelle che sono le leggi di antibracconaggio, le leggi sul trasporto animale, le normative per quanto riguarda i rifiuti solidi, urbani, discariche private o pubbliche e l'etica professionale, il come porsi, come compilare un verbale, come proporsi alle persone quando si vada a fare un accertamento, ad eseguire un servizio. La vostra sezione con sede a Cacina Lanca compie in aprile un anno di attività. Qual è il bilancio? Io direi positivo. Siamo cresciuti, siamo cresciuti come numero di soci, siamo arrivati ad un centinaio di amici che si sono dati un po' da fare e abbiamo seguito varie attività, abbiamo collaborato con altre associazioni sul territorio per quanto riguarda manifestazioni, abbiamo partecipato a manifestazioni, quest'anno a Gravellona Toce Babbo Natale è stato Babbo Natale Ampana e tutte quelle che sono un po' le altre attività, anche collaborando con manifestazioni organizzate da altre associazioni con le quali si è formato un ottimo sodalizio, un ottimo rapporto, specialmente con la Proloco di Gravellona Toce. Siamo gatti alla pagina del meteo. L'attuale situazione meteorologica garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato ancora per domani, mentre sabato l'arrivo da est di aria fredda e relativamente umida causerà un temporaneo abbassamento delle temperature e cielo prevalentemente nuvoloso. Nella giornata di domani quindi ancora cielo sereno, con però aumento della copertura nuvolosa dal tardo pomeriggio, fino ad avere un cielo nuvoloso nella notte. Temperature minime in lieve aumento sui meno 2 e 2 gradi e massime in calo sui 9 e 12 gradi. Zero termico e un brusco calo fino a 1300 metri. Venti deboli nord orientali a tutte le quote, con rinforzi dal tardo pomeriggio. Sabato ci attende cielo sereno in alta montagna e nuvoloso o molto nuvoloso nelle vallate, possibile debole nevischio al mattino sulla fascia pedemontana. Temperature minime stazionarie sui meno 2 e 2 gradi centigradi, massime in forte calo sui 5 e 9 gradi. Zero termico e in ulteriore forte calo fino a 500 metri. Venti deboli settentrionali. Quest'edizione è finita, vi ringrazio tutti per l'attenzione che ci avete dedicato. Vi ricordo il nostro sito www.viciosata.tv dove troverete i servizi e le notizie di questa delle precedenti edizioni. Vi auguro un buon San Valentino e una buona serata.